Buonasera a tutti e benvenuti. State a casa e la puntata potrebbe già essere finita qui. Ora, l'8 marzo in gazzetta ufficiale è stato promulgato un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ve ne parlo perché ne stiamo parlando in continuazione 24 ore su 24. Lombardia, zona rossa, non vogliamo chiamarla zona rossa, zona pericolosa per la diffusione del contagio. Criticità di questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Tante, ma comunque una scelta, ma comunque una decisione, ma comunque una indicazione. Le criticità, non le criticità, d'accordo con tutti, con quelli che dicono ha fatto bene il Presidente Conte, con quelli che dicono ha fatto male perché non ci sono delle norme di attuazione, ci sono delle situazioni dove non sono ben spiegate certe cose, si poteva fare meglio, i Presidenti delle Regioni chiedono comunque di chiarire certi punti controversi. Va benissimo tutto questo. A prescindere dalle critiche, a prescindere dalle polemiche, a prescindere da tutto, ribadisco, arriviamo al sodo. State a casa, stiamo tutti a casa. Stiamo a casa e state a casa e stiamo a casa semplicemente perché è l'unico rimedio possibile in questo momento per arginare il contagio. È un contagio molto veloce, quello del coronavirus, lo abbiamo visto, abbiamo visto in Cina, abbiamo visto anche in Lombardia nell'arco di 15 giorni quale sia stata la ramificazione di questo contagio. Velo pietoso sul fatto di fuggire, velo pietoso sul fatto di una bozza che esce prima di una decisione di un Consiglio dei Ministri e scatena polemiche, scatena confusione, scatena incertezza, scatena panico, scatena la fuga. Noi non scappiamo, nessuno scappa, non ha senso scappare e rischiare di contagiare altre persone nella loro regione. L'unico rimedio, ribadisco, è quello di stare a casa. Stiamo a casa, per favore, stiamo a casa tutti. Ragioniamo sul fatto che le attività commerciali, le attività produttive debbano proseguire nel loro corso. Forse sarebbe stato meglio bloccare anche quello, chiudere anche i bar, chiudere i ristoranti, chiudere le aziende, chiudere tutto, chiudere gli studi, chiudere tutto in assoluto. Presumibilmente tutto questo non si poteva fare e non è stato fatto, ci sono degli orari. Però, ribadisco, stiamo tutti a casa. Non ci sono medicine per questo coronavirus. Non c'è un vaccino per questo coronavirus. La problematica è quella che tutti possiamo essere contagiati o chi pensa di non avere il coronavirus può malamente, maldestramente trasmetterlo ai propri cari, ai propri genitori, ai propri figli, ai propri nonni, con le conseguenze che abbiamo visto. Terrorismo e non terrorismo sulla frase e sulle emozioni suscitate da affermazioni di anestesisti, di terapisti intensivi sul fatto di dire se il pronto soccorso si riempie, se siete tanti, se non c'è posto, se dobbiamo salvare, scegliere qualcuno da intubare rispetto ad altri, dovremo fare delle scelte. Bruttissima questa frase, bruttissima questa immagine. Inopportuno anche quel servizio sulla sette, sulla terapia intensiva, a mio giudizio, con musiche e una configurazione terroristica. Quella è la terapia intensiva per il coronavirus, ma quella è la terapia intensiva per la quotidianità di tutte quelle persone che purtroppo si trovano a stare lì anche per altre patologie. Io dico però, stiamo a casa, i pomeriggi ridenti padani, al sole, parlo di noi, parlo di Cremona, dove tutti passeggiamo nel parco e ci salutiamo e siamo in tanti, diciamo che bello c'è il sole, scappiamo da Cremona a pochi chilometri sul Po e siamo felici, sono una scelta sbagliata. Si sta a casa, faccio una fatica incredibile anche a spiegarlo ai miei figli, come farete voi a spiegarlo ai vostri figli, ma dobbiamo stare a casa. Si esce per fare la spesa, uno solo magari. Si esce per andare a lavorare, se si deve, ma poi si torna. Evitiamo i contatti. Stiamo a casa perché è un'ottima arma quella che tutti stanno proponendo in questo momento. non è una butade, non è una compressione dei diritti della persona. È una scelta coraggiosa per combattere un virus cattivo. È una scelta che abbiamo nelle nostre mani, è la scelta più semplice perché non siamo bambini, siamo persone mature e sappiamo comprendere la gravità della situazione. Stiamo tutti a casa per favore. Grazie. Grazie.